Si è concluso con successo il doppio appuntamento d'anteprima della Podistica Internazionale San Lorenzo Trofeo Armando Di Mauro, la storica manifestazione organizzata dal gruppo sportivo Mario Canonico San Lorenzo di Cava dei Tirreni, giunta alla sua 54esima edizione in programma il prossimo 27 settembre. Due gli eventi che hanno anticipato la podistica presso lo stadio Simonetta Lamberti. Il primo, il concorso scolastico Memorial Antonio Ragone, 28esima edizione, che ha visto esibire gli alunni delle scuole d'infanzia ed elementari cavesi in uno spettacolo all'insegna di balli, canti ed animazione. Corro felice, amo quel che mi circonda è stato il tema dell'edizione 2015, che come di consueto ha rappresentato per i più piccoli una speciale occasione di aggregazione e divertimento. L'altro appuntamento, promosso dall'assessorato allo sport dell'amministrazione comunale metelliana in collaborazione con la Canonico San Lorenzo, guidato da Antonio Del Pomo e il comitato XI di Cava dei Tirreni, presieduto da Giovanni Scarlino, ha dato vita alla prova unica della tredicesima edizione del progetto Aspettando la San Lorenzo Trofeo Armando Di Mauro, che ha visto la partecipazione degli studenti delle prime, seconde e terze medie cavesi scendere in pista e gareggiare per gli 800 metri maschili e i 600 metri femminili. E' seguita poi per gli alunni un'attività dimostrativa curata dagli atleti dell'Associazione Sportiva La Rondine, che non hanno mancato di dare preziosi suggerimenti riguardo alle discipline sportive di atletica leggera, soprattutto attraverso dimostrazioni pratiche, promuovendo così un'attività integrata sportivamente insieme. Due anteprime dunque che hanno coinvolto tanti giovani del nostro territorio in una due giorni all'insegna del divertimento e della competizione agonistica amatoriale.